Vediamo il ritardo di entrata e di uscita. Entriamo in programmazioni con il codice installatore, asterisco 1, 2, 3, 4, 5, cancelletto, menu 4, sistema, e poi menu 2, ritardo di ingresso. Di default sono 10 secondi ed è possibile settarlo fra 00 e 99 secondi. Mentre nel sotto menu 3, ritardo di uscita, anche qui di default è 10 secondi e possiamo settarlo da 00 a 99 secondi.